Io devo cercare di non sclerare, signori miei la non sclero challenge parte da adesso Ti picchio a sangue, e vabbè, quale sarà mai il problema di picchiarti a sangue? Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Crazy Lock Pokemon Nero 2 E sì, non mi ricordavo che cazzo di numero di episodio era In ogni caso, signori miei, nello scorso episodio abbiamo evoluto altri due Pokemon E abbiamo ottenuto due nuovi membri che ho nominato rispettivamente New 3DS XL e Trottola Che cosa ignorante, ragazzi io non pensavo che tra di voi ci fossero dei geni Vi sottovaluto Cioè, allora, l'idea del New 3DS XL è geniale perché c'è i tastini sulle mani È fantastica Trottola ignorantissimo Io raga, quando fate così, veramente vi amo Vi amo, comunque sì, noterete che ho il cappello di Glaceon Perché, signori miei, dovete capire che oggi ho dei capelli improponibili Sto registrando esattamente dopo la live di mercoledì E tra l'altro questo episodio qua penso che sarà un po' più corto Perché ho tantissimo da fare stasera Devo studiare Devo editare Pokemon Light Platinum Dovrei mettere a posto il pacco della Capture che è là dietro Comunque, oggi andremo ad affrontare Camilla E sì, cercherò di non urlare troppo Anche se probabilmente sarà difficile Perché, comunque, signori miei, dovete capire che è sera E quindi forse non mi conviene Comunque, signori miei, a dispetto di quanto voi possiate pensare Questa non è la palestra di Camelia Ho detto Camilla prima Sapete che mi sa che ho detto Camilla Comunque, non ho cambiato il... Aiuto Non ho cambiato, appunto, il... Il moveset dei Pokemon Bastarda, navicella Come ha detto questo tipo qua, ragazzi La palestra di Camelia è un'altra E si trova esattamente di fianco a queste Che sono diventate delle montagne russe Molto semplici E se non sbaglio qua, tra l'altro Non ci dovrebbero essere allenatori a romperci le balle Quindi, scialla Vediamo se... Esatto, sì Più veloce, più veloce Più vado veloce, più mi diverto Forse dovresti anche andare sulle montagne russe Per divertirti alle montagne russe Sai, non sarebbe una cattiva idea Anziché starsene lì fermi A aspettare l'arche della Fusis Dai, su C'è tempo Olè, perfetto Ciao Non mi sfidi, vero? Se c'è la mamma puttana Io non lo so E vabbè, nulla ci tocca sfidarlo Raga, con sto cappello qua Voi non avete idea di quanto caldo faccia Cioè, sto tipo avendo il cervello Sta andando in ebollizione Vabbè, sa già come un pezzo di merda Cheat Bastianich Da quanto è cotto Però, ragazzi Dovete capire che Non posso far spaventare i miei iscritti Con i miei capelli Incurati Si dirà incurati Boh, non lo so Intanto mi chiama a suo legno Ma ho fatto malissimo, raga Ecco, il problema di questo Neutral DSXL Che è un soprannome Oltre al soprannome ignorante È che non ha un gran moveset Allora, adesso faccio una cosa Molto poco professional Cioè, guardo che Questa è fisica Eh, no Io però sono speciale Eh, mi pare almeno Cosa sono? Allora, il moveset di trottola È abbastanza buono Se non ricordo male A parte che ha ghigliottina Quindi no Non è buono per un cazzo Allora, lo modifichiamo adesso, raga Allora Siamo molto accanti speciali Quindi direi di Levare innanzitutto Gran fisico Comando cura Ce lo teniamo assolutamente Levarei Gran fisico, raga Perché c'è Obiettivamente a sto punto Non serve a nulla Perché se sono speciale Devo aumentare l'attacco fisico Sto punto Tanto vale Eh, beh Un rocciotomba di tipo fuoco Volendo Dimmi che lo impari Uh, lo impari Perfetto Allora, dai Te lo insegno Ti tolgo Gran fisico Comando cura Lo teniamo Spora Anche se a 65 di precisione Proviamo a tenerlo Non si sa mai No, no Lo sapevo che te ne andavi Lo sapevo Guarda Avevo la certezza Come l'ho visto Ho detto Questo fa lo stronzo Ok No, tu sei Decisamente attaccante fisico E allora Ti leverei sabbiotomba Anche in questo caso Raga Ghigliottina Vedrò di utilizzarla Prevalentemente In casi disperati Cioè Vedrò di non fare La merda Di utilizzare Sempre solo quella Godo Che puoi imparare Venire da me Per piacere Grazie Troppo buona Ole Quando manca Scusatemi Ad arrivare da Camellia Che poi tra l'altro Ragazzi Dopo essere arrivati da Camellia Questa Fa la merda E si sposta Si sposta Nella sua palestra Oh che culo Si 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 a parte che c'è C'è uno stronzo Là dentro Sicuramente E stronzo Perché se non sbaglio C'è anche Esatto Il simpaticissimo Allenatore di turno Comunque raga Deduco che in questo episodio A sto punto Faremo solo la palestra E nel caso La cattura Nel percorso a destra Di Scirocopoli Come avevamo fatto Tra l'altro Nella scorsa Souling Mi ricordo che lì Abbiamo tenuto Latios Raga Che se non erro È stato il pokemon Che è rimasto Per più tempo Nella serie Che è morto Praticamente È l'ultimo episodio Forse non l'ultimo episodio No è morto la Lega Infatti Ed è stato sostituito Pensato un po' Da Stanfisk Non vorrei confondermi Con un altro pokemon In realtà E farai un po' schifo Allora Mettiamo trottola A sto punto davanti Ma tipo Il fortunovo Io ce l'avevo Mi sa sapete Perché adesso Io mi devo abituare All'idea che ce l'ho anche qua Il fortunovo E non ce l'ho solo In una serie Sparalanche raga È una mossa inutile Non ho mai capito Neanche il pokemon Che ce l'aveva Sparalanche Perché io Ho sempre riconosciuto Gelo lancia Ma sparalanche L'ho sentito assolutamente Quindi Boh non lo so Cioè Non lo attacco mai Non lo so A sto punto È troppo unpa cattivo Se mi avveleni Ti picchio sangue Ti picchio sangue E vabbè Quale sarà mai il problema Di picchiarti a sangue Vabbè L'abbiamo devastata Fermi un attimo E curiamo il coso Vabbè Tu vattene Cosa ti devo dire Sarai stronza Antidoto Ne ho 4 Ottimo Cioè Ce l'avevo Un fortunuovo Cosa Non me lo ricordo Sapete Probabilmente Mi sto confondendo Con Sì Mi stare Sì Oh è vero Trovato il condivido esperienza Non è un fortunuovo Nulla Scherzavo Allora Aspettiamo la simpaticissima Montagna russa Che mi fa sempre penare Mannaggia Lei Ole Perfetto Dovremmo arrivare Da Camellia Che però Non ci darà la sfida No Chi sei tu Scusami Perché sei qua È un peccato Che tu abbia fatto Tutta questa strada Di incontrare Come palestra Appena E lo so Ma nella palestra Di là Non mi facevano andare Perché dicevano Che eri qui Ci ho provato fuori parte Cazzo C'ho una vita Proprio Da sbocco Hashtag Uccidete creepy Sopprimetelo Vi prego E vabbè Farà pure schifo La mia vita Ma dobbiamo andare avanti Allora Prima di proseguire Però vado a curarmi Velocemente Nel frattempo Vi invito a lasciare Un bel mi piace E a commentare Risponendo alla domanda Del giorno Tra l'altro ragazzi Vi ringrazio tantissimo Perché questa serie Sta andando stra bene La serie più visualizzata Del canale L'ultimo episodio Ho fatto quasi 2000 visual Cioè Non ci volevo credere E nulla Vi ringrazio davvero tanto Penso che questi video Stiano anche un po' Uscendo dal canale Mi stiano portando Venuto anche a tutti gli iscritti nuovi Che probabilmente Staranno seguendo questa serie Lo spero Ehm Ok no A te non ti cago Ok Eccoci qua Comunque La palestra Ora Di qua se non sbaglio C'era tipo uno strumento Esatto Che ha randomizzato Pietrafoglia Baccacomero Beh dai Più o meno una pietrafoglia Con qualche modifica Lo può diventare Siamo a 7 minuti Entriamo nella palestra Ora Sarà uno spettacolo Affrontare camellia Senza dover sclerare Per i suoi emolga Ma al tempo stesso Paura del randomizzato Ciao E allora Siamo riusciti a sorprenderti Come vedi Questa palestra Ospita una passerella Per la sfilata All'ultima moda Evviva Cioè Proprio Ye Non so se mi spiego Comunque Allora Esatto Ci sono gli anatori Sua passerella Non hanno poco Tipo elettron Soprattutto Non hanno emolga Ok ciao Ah è vero Loro sono le ballerine Esatto Ecco Infatti mi stavo chiedendo Che cazzo fosse quella lì Allora raga Direi di velocizzarle Un po' le battaglie Con gli allenatori In modo tale Da gustarci di più La battaglia Col capo palestra Comunque questa Non è un dottore Perché sei così alta Di livello Avrei dovuto Allenare i pokemon Mi stai cercando Di dire Raga Questo qua È di tipo Spettro Vero Sì Perfetto Madonna Ragazzi I dubbi Del creepy C'è Stai scherzando Mi stai prendendo Per il culo Davvero Me lo metti davanti Così Bene No davvero Cinesi Perfetto Mi fa piacere Che abbiate Queste passioni Orientali Muori Cinese Muori Tanto siete in tantissimi Voi in Cina Cosa ve ne frega Voi se uno in più Uno in meno Olè Perfetto Tra l'altro Ragazzi Ci danno un bordello Di punti esperienza Sti pokemon Io Non ho Veramente parole Cioè Sono davvero tanti Come punti esperienza Ma Probabilmente Perché In questa crazy lock Come avete visto L'esperienza è stata un po' randomizzata Tipo abbiamo un Mew Che sale Di livello a caso E poi Boh Penso che sia Anche il fatto Che i pokemon Siano Di alto livello Quindi Boh Non lo so Sinceramente Però ci sta Cioè Va bene così Non Andate via la voce Sto parlando da tutto il giorno Praticamente Va bene così Cioè Non mi faccio problemi Io Bello Cazzo Che due palle Fa Fa Erba patto Gesù Dio Adamo buono Erba patto Ma poi scusami Ma di che cavolo Di tipo è Pansage Per aver Ah no È vero Che le mosse Sono randomizzate Creepy sveglia Creepy sveglia Di tipo Erba Pansage Infatti Mi stavo chiedendo Erba patto Di nuovo Ma non mi fai nulla In realtà Mi fai malissimo Ma scusami Sono randomizzati Raga vi giuro Che non lo faccio Apposta Muori No nulla da fare Muori ti prego Oh Dio mio Ma no Manco fosse Non lo so Il vallo di Adriano Ok Intanto Neuter di SXL È salito di livello Oh Mandiamo trottola Contro questo scisor E Nulla Io vi giuro Che non lo faccio Apposta Mi dimentico proprio Che le mosse Sono randomizzate Idropompa Ah Sto critical infame Muori Non gli ho fatto niente Ok Madonna raga Sono di livello altissimo Forse me la sto rischiando troppo Forse avrei dovuto allenarmi Effettivamente Martellata Me li ricordavo più bassi I livelli Sarò sincero Facciamo un altro Idropompa Idropulsar Io sono di tipo normale Ma le mosse sono randomizzate No dai Non è possibile però Guarda che schifezza Sto gioco Allora Fermi Mandiamo la pippa Mandiamo la pippa Che regge qualsiasi cosa Idropulsar Ok Perfetto Drago furia Dai Puta Minchia Non gli hai fatto nulla Rogodenti Vento gelato Ok calma Mi diminuisce la velocità Minchia raga Sta sedia di merda Ci manca solo lei Guardate Martellata Dio mio Ok Mewtwo Devo mandare Mewtwo Per forza Martellata di nuovo Porca Ma che cavolo Incendio Muori Non ci credo C'è No merda No 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 Non lo farai Ah ok Trattieniti 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 Mannaggia a te Muori Non ci credo C'è È assurdo Boh Due coglioni Ma andiamo lui Ho paura Attaccare con sto cosa Raga Perché è confuso Questo mi muore in mano Martellata Cristo Dio No raga C'è Non è possibile Mi sta aprendo Iperpozione Martellata Questa parte qua La chiamerò tipo Sfilata del terro Cristo Sfilata del terro Cristo Lo chiamo C'è Ha preso tutti i punti Esperienza Non lo so Non lo so Pure la bottiglia D'acqua Ha preso punti Esperienza Vai via Dio mio Scisor Gesù Allora Fermi Curiamoci con calma Allora Una sveglia ce l'ho Fai che io ne abbia due Ti prego Perché non va giù Perché non va giù Ok Ne ho quattro Perfetto Uno E uno due Curiamoci pokemon Quanti per pozioni ho Ne dovrei avere abbastanza Otto Allora ne utilizzerei Una qua Una qua Una qua Una qua E una qua E ci ne avanzano Tre Boh raga Speriamo che bastino Sul serio Perché altrimenti Potrebbe diventare Un problema La cosa Vediamo un po Dovrebbe esserci Un'ultima E poi dovrebbe esserci Il capopalestra A sto punto Raga la cattura La faccio nel prossimo episodio Sul prossimo percorso Così almeno facciamo Percorso Percorso a sinistra Arriviamo lì Becciopoli Stoppiamo l'episodio Direi che ci può stare Così magari faccio Quei percorsi Un po' più alla svelta Velocizzando un po' Gli allenatori Così Joltik Caro mio A parte il fatto Che sei di tipo Elettro E hai download Dimmi che non ho Entrattato Cospeciale Ok Provo un picchiaduro Fa che sia Super efficace Madonna che mossa Di merda Che schifezza Abominevole Terra impesta Io sono di tipo Ma tanto mi sa Che ti colpisci da solo Olè perfetto Idropompa E ti prego vai giù Olè perfetto No dicevo appunto Velocizzerò gli allenatori Nel prossimo episodio Così almeno facciamo Qualcosa di più sbrigativo Facciamo le catture E arriviamo a lì Becciopoli Invece qua Visto che la palestra La battaglia con Colpo palestra Sicuramente A giudicare dalle battaglie Con sti qua Ci tirerà via Un bel po' di tempo Vi ho già detto che Oh eccola qua La puttana Fa che roba Cioè E' anche figa Va detto Bisogna essere Diciamo Oggettivi Però Cioè E' anche abbastanza Stronza Tra l'altro Bellissimo Remix Della Della palestra Allora 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 Baccaran ce ne ho Sì Una Allora La darei Una a lui E Una E poi vabbè Dai vado di baccacere No 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 Sono spastico Cosa Ok Possiamo andare Ad affrontare Camellia Ora Mi è appena arrivata Gente in casa Io devo cercare Di non sclerare Signori miei La non sclero challenge Parte da adesso A 15 minuti e 45 Via Che poi io metto Le clip all'inizio Quindi durerà di più Quindi per voi Sarà tipo Un 16 minuti Parte la battaglia Con Robin Perfetto Parte la battaglia Con Robin Dalle fattezze Maschili Evidentemente Arbok Perfetto Vabbè raga Cioè Camellia con Arbok Giudicate voi Giudicate voi Giudicate voi Vabbè A parte ciò Giorno di sole Fermo Io delle mostre di fuoco Ce le ho Ok Questo potrebbe addirittura Essere a mio vantaggio Idropompa Ti prego No ok Idropompa è di ghiaccio Però Aspetta C'è un solar potere Questo cosa vuol dire Vuol dire che mi aumenta L'efficacia delle mosse Mi aumenta l'attacco speciale Sono fisico Evviva L'abilità più inutile Che io abbia mai visto Ok Fermi Devo ritirare trottola È troppo rischioso Mando Allora Io ho paura Di una mossa di fuoco Quindi Se riuscissi a trovare Un pokemon resistente Purtroppo avevo Absol Mai morto E Boh raga Mando la pippa Che può reggere Qualsiasi cosa Che Penso sia anche il pokemon Che ha più rischiato In assoluto In questa serie Vai caro mio Foglia magica Ok Lo reggero Ai è super efficace Però non mi fa molto Proviamo un rogodenti Raga A sto punto Visto che Abbiamo Il potenziamento Del fuoco Ok Però mi sto cominciando A preoccupare Allora io Ne ho tre Di pozioni Vero Non so se giocarmene Una adesso Raga Si me ne gioco Una adesso Ok Iperpozione Sulla pipa Raga Questa battaglia Qua sarà Difficilissima Io vi avverto Sarà Difficilissima Foglia magica Non crittare Ok Caro mio Non devi fallire Però Se no è un casino Se comincio a fallire È un casino Sapevo io Ok La luce è tornata Normale Però Ora Me la rischio Flagello Non crittare Non crittare Ok Flagello Cavolo Quasi giù Ok Calma Lo ritiro E mando il pokemon Con più difese Che è Mew 2 Mew 2 Mandiamo Mew 2 Allora Lui non dovrebbe Curarsi Perché non è ancora Vita rossa Che era quello Che volevo evitare Utilizzando trottola Ok Mi colpisce Mi fa poco Qua devo Devo giocarmela bene Io ho visto Che si Incendio Perché io Abbiamo visto Che la erba È efficace E normale Quindi incendio E giù Cioè A meno che Non succeda qualcosa Di assurdo Ok Perfetto Il primo è andato Raga Ottimo così Livello 28 Per Mew 2 Vediamo se sale Anche la pippa Non credo Trottola si però Ottimo Ora Crabby Perfetto Mandiamo Mandiamo Ok Questo qua Se non ricordo male Era un ottimo Sweeper Neutral DS XL Era un ottimo Sweeper Quindi manderei Lui ragazzi Sì Direi di sì Eccolo qua Robin Bug Catcher Manda in campo Crabby Ottimo Livello 30 Raga I livelli Erano più bassi Quando giocavo io Però Mazzuolegno Perfetto Ok Subirò un Contra colpo Della madonna Sti cazzi Però l'abbiamo Buttato giù Carvagna Ok Provo a tenere Neutral DS XL E a fare un altro Mazzuolegno Premunizione di Carvagna Ok Ha scoperto Mazzuolegno Allora Fermi Io Nel caso Per compensare Mazzuolegno Volendo Ho la cura Sì Vinta Perfetto Ok Mi sono fatto Malissimo Ma L'abbiamo Portato a casa Ottenuta La quarta Medaglia Di Unima Perfetto Ragazzi Ottimo Grazie Quanto Ti ho odiato L'ho rischiata Questa volta L'ho rischiata Davvero troppo Per il prossimo Episodio Li porto Tutti Tutti Al 30 Magari Qualcuno Al 31 E E nulla Li porto A quel livello Lì Vediamo Che Meticità Oh Gesù Vabbè Raga Camelia Lega Tutto Evidentemente Ha delle Tendenze Un po' Sadomaso Vabbè Possiamo proseguire Siamo a 20 minuti Quindi Qual è il tuo obiettivo Nella vita Usciamo tutti insieme Perché 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 Creepy Che stile Elettrizzante Potevi risparmiartela Questa Bella Grazie raga Sì sì Questi qua sono tutti i miei fan In realtà Mi stanno volando le cuffie Ok Perché Con questo cappellino Raga C'è poca aderenza Ok Ci dice che ci aprirà il ponte Per Libeciopoli Ma io raga Alla fin fine Sapete che Libeciopoli Ci vado In the next episodio Perché Oggi Concludo E Concludo perché Avevo detto che Devo finire un pochino prima Comunque alla fine È durata 21 minuti Quindi In realtà È in linea Con la durata Dei video Che per me È prefissata Poi sapete che Succedono cose Per le quali Di lungo Nel prossimo episodio Esploreremo Il percorso a destra Lo esploreremo Più o meno Fino al ponte Affrontando Un po' di allenatori Forse non tutti Poi ci dirigeremo Verso sinistra E andremo A Libeciopoli No 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 Quello lì lo dobbiamo fare Nel prossimo episodio Ops spoiler Detto ciò Con questo spoiler Spero che il video Vi sia piaciuto Se così mi invito Come al solito A lasciarmi un bel mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Se non lo avete ancora fatto Mi raccomando Passate i social Che trovate in descrizione E rispondete A domande del giorno Che sarà come al solito Qua sotto Nella sidebar Detto ciò Noi ci becchiamo In un prossimo video Noi ci becchiamo Noi ci becchiamo